Il pianista scende dal treno che proviene da Sombrio. Il cielo una nuvola unica, quell'unica stella sparita. Pianoforte vendesi. Lui lo chiamano pianista, qui vendono un pianoforte e allora se interessa il pianoforte può salire a vedere. Sì, sì, ho capito, abbondante. Il cancello è mezzo aperto. Ci si infila. Entra nel corridoio. Poi guarda la donna. È vecchia. Qui sullo scapello, vicino a me. Cominciamo con un balzerino. Io non so suonare. Bazzucchette. Balzerini. Ma quella è stata la musica della festa del paese. Allora, giovanotto. Allora cosa? Che ci fai qui? Siamo tutti qui per sentire la tua musica. Suona! Ma come ho fatto a suonare? Tu sei come questo. È i tuoi piccoli. La mano? Ma come pesca? È un istante! La mano come un artiglio pesca un biglietto da 5 mila. O quello ci ha preso per il culo. O trattavasi di fantasma. 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 O trattavasi di fantasma.